Ciao a tutti amici di Vapers4Passion Buonasera Oggi vi parliamo di una roba veramente particolare Oggi vi facciamo vedere un componente per un atomizzatore già esistente L'atomizzatore in questione è il Titan Aromamizer Titan 41 di casa Stinkrave Che per questo atomizzatore ha fatto uscire un nuovo deck Vi facciamo vedere il deck mesh a due mesh ragazzi Bene si Stinkrave porta sul mercato un primo RDTA Perché un RDTA dual mesh già c'è in commercio Già l'abbiamo anche recensito Adesso andiamo a vedere un primo sistema Tank RDTA con questo sistema Chiaramente visto che il tank è già uscito da svariati anni addirittura Ve lo facciamo giusto vedere nelle sue componenti come è strutturato Così se non lo conoscete sapete di cosa stiamo andando a parlare Ma la recensione sarà chiaramente incentrata solo sulla novità Cioè su questo nuovo deck dual mesh series Detto questo non perdiamo altro tempo Andiamolo a vedere da vicino insieme all'atomizzatore Come abbiamo fatto per la Aromamizer 30 faremo la stessa cosa per il Titan Quindi eccovelo qua smontato pezzo pezzo Adesso lo andiamo a ricomporre insieme per vedere come è composto Partiamo dal blocco centrale intanto dove abbiamo questo Airflow Che ha prima e terza fila composta da sei fori e quella di mezzo da sette Parzializzabili chiaramente tramite questa ghiera Inserendo la ghiera che è tenuta appunto da questi O-ring come vedete Solito discorso roteando Una volta inserita la ghiera appunto la tolleranza Sembra dura ma una volta che iniziamo a utilizzarla in realtà è molto morbida Abbiamo la possibilità di usarlo tutto aperto Così è decisamente più chiuso come vedete E poi sempre perché Steam Crave fa dei prodotti molto molto versatili Possiamo avere un'area più chiusa e un'area chiusissima Il bello dei prodotti Steam Crave ragazzi è che in un modo o nell'altro Potete farci sempre quello che volete Vi danno dei prodotti che vi danno un'infinità di possibilità di utilizzo Per il resto per quello che riguarda il discorso della campana Cambiano le proporzioni visto che stiamo parlando di un 41 Ma il discorso come quello di tutti gli Aromamizer La conformazione è molto molto simile L'incastro del deck è uguale Assemblato in questo modo quindi senza camino e senza niente Diventa un dripper E la cosa bella è che in formato dripper contiene ben 4 ml e mezzo Abbiamo poi la possibilità di utilizzarlo in maniera short Quindi con questo camino e questo vetro Per avere la capienza di 14 ml E poi c'è la versione standard con il suo camino proprio di serie E con questo vetro che ci dà la capienza di ben 28 ml Visto che appunto come abbiamo detto prima andiamo a parlare solo della vera novità Che è quello a mesh il settaggio che gli vado a dare Ovviamente ragazzi ve lo faccio vedere al volo ma Siamo proprio all'abc qua Mettete il camino Mettete il vetro E poi dopo Montate il blocco di sopra E l'avete assemblato Solo che per l'utilizzo che andremo a fare noi C'è appunto con il nuovo deck Usiamo la modalità che per me è il risultato più idoneo C'è dripper Quindi andiamo ad avvitare la parte sopra Attacco 810 Questo è il drip tip Rispetto alla Roma Mizer 30 Questo sistema fatto in questo modo Aiuta decisamente a risolvere il problema della condensa Comunque se ne accumula qua Ma è molto difficile che vi arrivi Rispetto alla Roma Mizer 30 Il Plus V2 che abbiamo appena visto La cosa è decisamente più gestibile E molto meno problematica Quindi una volta che abbiamo il nostro dripper in questo modo Andiamo appunto a inserire il deck Questo qua è il deck del Titan Molti di voi già lo conosceranno Pensate che poi nel pacchetto di spare parts Oltre che il solito discorso Roma Mizer Che guardate ce l'ho qua di fianco Ve lo faccio vedere al volo Vi danno due vetri di ricambio 40.700 viti o ring Un altro drip tip in ultem Chiavini vari E vi danno questo sacchettino Avete 300 miliardi di impostazioni Questi sono tutti dei componenti in più Perché questo deck lo potete far diventare velocity Potete veramente farci l'impossibile Non sto neanche a farvelo vedere Per il fatto che ci sono talmente tante opzioni Che veramente dovete solo mettervi lì E vedere come volerlo fare girare Detto questo Come vedete potete montarlo in tre Dual coil Potete fare veramente quello che vi pare E quindi questo qua è il deck di serie Della Roma Mizer A differenza degli altri Questo qua ha il controllo del liquido Nella parte sottostante Quindi anziché avere il coperchio e basta Come abbiamo già visto negli altri Abbiamo qui la ghiera di regolazione del liquido Che non sono più due megasolone Ma sono quattro più piccole Infatti vedete che girando In questo caso Corrisponde al tutto aperto Lo mettiamo tutto chiuso E le nostre asole sono chiuse Ma a questo punto Abbiamo già parlato abbastanza Andiamo a guardare il pezzo forte Ragazzi Mi è arrivato così purtroppo Esteticamente non è il top Ma A Roma Mizer Titan Dual Series Mesh Deck Kit All'interno Oltre il deck Chiaramente Abbiamo Un po' di robina Tra cui Il nostro classico supporto Per poter Dare la forma Alle nostre mesh Il manuale di utilizzo Solito Che ci spiega Passo passo Come va fatto Girare Questo Atomizzatore E ci sono state mandate Questa volta Due coppie di mesh Abbiamo le prime Che sono in Cantalla 1 Le 015 In poche parole Sono le stesse Identiche Che abbiamo visto in dotazione Nella Roma Mizer 30 Ma ovviamente Sono più piccole Come vedete Le dimensioni Sono le stesse Identiche Precise Delle coil Watofo Per capirci Quelle anidodape E le OFRF Quindi a differenza Della Roma Mizer Non possiamo usare Le mesh Del profile 1.5 Dovreste Smussarle Ma dopo Andiamo anche A spiegarvi Perché non è una cosa Secondo me Utile Fattibile Perché chiaramente Abbiamo fatto anche Per quello Le nostre prove A riguardo Con risultati A mio parere Scarse Ma ne parliamo meglio Dopo Le incriminate Che andremo a provare A usare oggi Sono SS 316L 316L Da 0.15 ohm Appunto Le misure Sono le stesse Sono da mandare A vattaggi Chiaramente Più bassi Anche Quando si parla Di provarle Perché ovviamente L'acciaio ragazzi È molto più reattivo La trama Di queste qua Adesso poi Le andremo a vedere Un po' meglio Sono come le nuove OFRF Che le classiche OFRF Era una trama Molto fitta Invece Poi dopo Hanno cominciato A fare una simil via Di mezzo Tra quelle Anido d'ape E appunto Le loro classiche Che hanno questa trama qua Hanno deciso di usare Poi abbiamo appunto I vari Lo ring E le viti Di ricambio Del deck Ma adesso andiamo A guardare il deck Eccovi L'animale Eccovi La bestia Adesso andiamo A guardarlo un po' più Nel dettaglio Lo svitiamo Dalla nostra Adron 220 Dual 21 E700 Ma di questa Poi ragazzi Andiamo a parlare Più in là Ma Altro grandissimo Prodottino Ma Non siamo qui A parlare di questo Eccolo Il nostro Deck A mesh Abbiamo un deck Del diametro Di 28 Millimetri Che è composto Da due parti Come vedete Non è tutto Un blocco unico Questo riduttore Dell'aria Come vedete È incastrato Quindi per rimuoverlo Semplicemente Lo dovete tirare Verso l'alto Ma Per far sì Che faccia La tenuta Che deve fare La tolleranza È veramente Al pelo Questo È il deck L'ho lasciato Rigenerato Perché questa Rigenerazione Ad ora È andata Veramente bene Vi volevo Spiegare un po' Facendolo vedere Già Funzionante Nella maniera giusta Ma poi dopo Andiamo a fare Chiaramente Una nuova Rigenerazione Il principio Di questo deck Qual è È un deck Appunto Come già detto Prima Series Perché ovviamente Se fosse un deck Normale Usare due mesh Comporterebbe Un valore Ohm Veramente Veramente Basso Costantemente Praticamente Sotto Lo 010 Quindi In maniera funzionale Hanno pensato di fare Un series deck In modo che Il valore Ohm Era doppia E qui ne approfitto Per fare una precisazione Chiedendo umilmente Perdono Perché Nel video Della Roma Mizer Mi era stato Mandato Come secondo Deck Il series deck Che però Avevo letto male L'opuscolo Che era arrivato In inglese Crevo fosse Il single coil Ma era la stessa Identica cosa Cioè un deck Postless Che anziché Dimezzare il valore Ohm Lo raddoppiasse Stesso identico Principio Come vedete Abbiamo due mesh Come vi ho detto Prima Sono quelle un po' Più piccole Che hanno comunque Lo stesso Buffo In Comune Quindi questa è la sua sede Questa è l'altra E l'unico Buffo In mezzo Che appunto Solito funzionamento Pesca da sotto Su questo Non è cambiato Assolutamente Nulla Prima di andarla a rigenerare Vi dico la mia Su questa idea Che hanno avuto Che È una cosa Molto carina Innovativa Anche perché Chiaramente Il primo Che abbiamo sul mercato A livello di RDTA Perché noi Un dripper Dual mesh L'abbiamo già recensito Tempo fa Allo slatra Di match life Ma questo è il primo Tank Che effettivamente Ospito della mesh A parer mio Qual è il problema Di fondo di questa cosa Oltre che Potrete immaginare Che dovendo usare Lo stesso Buffo La curvatura Della mesh Deve essere esattamente Identica E voi direte La mesh è quella Sono pretagliate Sono della stessa Grandezza Il tool Il tool è lo stesso Prepiegare Ragazzi Non è così Indusivo Perché devono essere Appunto Chiaramente pari Perché se no Da un lato Dopo sarebbe perfetto Dall'altro Morbido Troppo duro Insomma avete capito Il meccanismo Quindi il primo problema Lo abbiamo appunto Sul fatto Che bisogna essere Estremamente precisi Per farlo funzionare bene Sul discorso Curvatura Della mesh Senza contare Che devono Esattamente Accendersi insieme Come le coin Ma con la reattività Che ha la mesh Perdona molto meno Delle coil In quella che è la mia esperienza Perché ti fa Di brutto hotspot Poi con le varie attivazioni Dopo Si riassestano E non stecchi più Ma i primi 3-4 tiri Stecchi Senza contare Un altro grande problema Adesso sicuramente Io questa L'ho messa Un pelino Ma sto andando a fare Preciso Un po' più inclinata Ma vedete che anche se L'avessi messa Esattamente Dritta Comunque la zona centrale Di condivisione Rimane veramente Troppo piccola E per arrivare ad alimentare Questa zona qua Da cui entrambe le mesh Chiaramente attingono liquido Deve arrivare E superare Tutta la zona Più compatta Che chiaramente È necessario Sia così Perché deve aderire Alla mesh Quindi Per avere sul serio Il flavor Che deve avere Non potete Primo svaparlo compulsivo E secondo Anche se siete bravi Perché adesso Questa qua è una rigenerazione A muji Non vi dico quante prove Ho fatto sull'atomizzatore Ragazzi Sono due settimane Che uso solo questo Non lo voglio vedere più Cioè ci ho provato Sopra l'impossibile Ma è un problema Che ho riscontrato Sia con la quota natura Muji Sia con i baffi Suoi prefatti Perché appunto Scusatemi Ma vengono forniti Anche due baffi Ovviamente uno L'ho già usato E non ne ho usato E non ne ho usato solo uno Ne ho usato i svariati Perché anche negli altri prodotti Stinkrave Ci sono questi stessi Identici baffi E quindi ne ho presi Anche dagli altri pacchetti Però Me ne sono portato di trono Per le recensioni Ma il problema È comunque Sorto Sia che fosse a muji Sia che fosse con i suoi baffi Prefatti Perché ovviamente Uno mette sempre a mettere Prima in dubbio La propria esecuzione Chiaramente No Ma in questo caso Prodotto standard È comunque una cosa Che ho riscontrato Nonostante comunque Sia chiaro Che facendo tutto bene Questo è un discorso Più che altro Per avere il giusto flavor Ma se comunque Fate tutto a modo Infatti ho voluto lasciare Per farvela vedere Perché questa qua È una delle due Rigenerazioni Che veramente Non mi ha praticamente Mai dato problema Ho preso una volta Solo una steccatina Su 28 ml svapati Questi sono 28 ml svapati Ma adesso direi Che ho anche parlato troppo Gli inserti sono appunto A croce Andiamo a smontare Questa rigenerazione E poi dopo Andiamo a montarci Quelle sue indotazioni In acciaio Quindi appunto Andiamo ad allentare Le nostre piattine Anche lì appunto È ripeto Stesso principio Della Roma Mizer Quindi non ci sono Le molle dentro Allentate le piattine Rimuoviamo tutto Mi dispiace veramente Tanto rimuovere Questa rigenerazione Perché andava Veramente Veramente bene Prima di andarlo Chiaramente a sciacquare Ve lo faccio vedere Smontato Vedete Quegli isolanti Messo in questo modo È come se venissero Il valore home La doppia Ecco Questo è il deck Completamente smontato Adesso gli diamo una sciacquata E poi lo rigeneriamo Bene Cominciamo Abbiamo già allentato Tutte le piattine Come vedete E quindi adesso Cosa facciamo Andiamo a prendere Le nostre Mesh In acciaio SS316L Noi semplicemente Facciamo Tac Ecco qua Le nostre belle Meshine Come dicevamo Prima Ecco appunto La nostra Mesh Vista da vicino Per farvi vedere Com'è La trama Rispetto a quella Che abbiamo già visto Nel video Della Roma My 02 Plus A questo punto Prendiamo Il nostro Bellissimo tool Prendiamo La mesh Come facciamo Sempre di solito La pieghiamo Una volta Che abbiamo dato La forma La inseriamo Nel nostro Deck Cerchiamo di Metterla Il più centrata Possibile Perché Appunto Come per la Roma My 030 Non abbiamo Il Fine corsa Non abbiamo Il binario Quindi la mesh Può anche Completamente Uscire E visto che Non è proprio A misura A misura A misura Cerchiamo Di tenerla Bene o male In mezzo Non attaccata All'isolante Non attaccata Alla parte finale Così dovrebbe andare Bene Quindi Leggera pressione Come al solito Molto leggera Il risultato Mi sembra Decisamente Buono Facciamo la stessa Cosa con l'altro Andiamo a vedere Avete capito Bene Riproviamo Ecco qua Adesso la situazione È leggermente Migliorata Vedete Controllate Che anche Guardandolo di lato Quasi dovreste Vederne come se fosse Una unica Così secondo me Potrebbe anche andare Vi dico la verità Non dovremmo Avere grossi problemi Sì 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 Adesso Ci siamo Come indicato da loro La pulsazione La facciamo A 20 watt Quindi Sono stati Molto cauti Con i 20 watt Togliamo Togliamo il pre-hit Soft Però a me sembra Ragazzi Che si accendano Bene Sinceramente Allora Vi dico la mia ragazzi Vi farà ridere Anche per come ho fatto la cosa Ma dopo svariate prove Ho trovato sul serio Quella che reputo La porzione perfetta Sia per questo Che per gli altri Romamizer Perché appunto Ho usato prima I baffi prefatti Per sentire Qual era la consistenza giusta È una cosa ragazzi Che dovete fare a pratica Dovete fare delle prove Dovete provare 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 Io posso farvi vedere questo Ma dovete averlo Nelle mani ragazzi Ok Guardate il grezzone Cioè Questa è la porzione Che ho trovato Per avere La stessa Identica consistenza Del baffo Prefatto Quindi Questa L'ho reputata Porzione ideale Ma Per dovere di cronaca Visto che oggi ce l'abbiamo Usiamo il baffo prefatto Così siamo sicuri Che non possiamo Sbagliare Quindi Altra cosa Mi dispiace risultare Un po' fanboy Perché come vedete Se poi dopo Nonostante mi piace un brand C'è qualcosa che non va Lo dico Non è che mi faccio dei problemi Anche i laccetti Sono fatti molto meglio Non è il pezzo di plastica Buttato lì Che 9 su 10 Quando tirate sfila Si afferra bene E si riesce a usare Molto molto meglio Rispetto a quelli A cui siamo abituati Di Watofo O chiunque altro Vedete Questa è la consistenza Che deve passare Ma neanche troppo a fatica Non deve essere Murato in mezzo Vedete Quel minimo necessario In modo che anche in mezzo Sia Leggermente più rialzato Rispetto alla mesh Seguendo La stessa Logica Appunto Della parte esterna Che il discorso vale sempre quello In qualsiasi atomizzatore a mesh Ragazzi Ricordatevi una cosa Il succo La cosa fondamentale È che una volta Che avete cotonato Il livello del cotone Sia superiore alla mesh Quello già vi toglie La maggior parte Dei problemi Che potreste Avere A differenza Della Roma Mizer 30 Che ci viene indicato Di tagliarlo Due millimetri Sopra lo ring Qui viene indicato Di tagliarlo Esattamente All'altezza Dello ring Quindi Mettiamo il nostro Baffo di lato Adesso sto sempre Un pelo più largo Perché il discorso Ragazzi È che A tagliare Si fa sempre In Altezza Ring Da entrambi I lati A questo punto Ragazzi In questi atomizzatori È fondamentale Perdeteci Due secondi In più Sgonfiamo Il cotone Dalla prima Metà Partendo chiaramente Dalla zona Delle asole La zona vicina Alla mesh Deve Rimanere Compatta Per un corretto Funzionamento Voi non fate Altro che sgonfiarlo Non c'è neanche bisogno Che diventate scemi Specialmente Con i baffi l'oro Perché comunque Questa roba Poi c'è il problema Proprio fisico Che la parte in mezzo Per ovvi motivi Non riesce Perfettamente A Ma comunque Questo non toglie Che in generale Cioè il sistema Come per la Roma Mizer 30 Alimenta da Da paura E cioè Veramente non si può dire niente Sotto questo aspetto Quindi Non avete neanche bisogno Di Perdere vent'anni Solo per sgonfiare Il cotone E lo incalzate Ricordatevi che poi Dopo ci va messo Il riduttore Che abbiamo visto All'inizio Quindi il cotone Mettetelo proprio Vedete Non Fatelo espandere Se no Vi si incastra Il proprio riduttore Vedete Qui sotto C'è questa parte Minuscola Ma stiamo parlando Veramente Di poco Questo qua È il risultato Che vi dicevo prima Come vedete Che il cotone È più ampio Una volta che avete Ottenuto questo effetto Se il sistema È fatto bene Come questi prodotti Ragazzi Non avrete Veramente Alcun problema Poi tanto contate Che adesso Quando andiamo a bagnare Si abbassa E sarà un livello Veramente Perfetto Quindi Facciamo la stessa cosa Anche da quest'altro lato Detto questo Lulo di tamburi Ci andiamo a mettere sopra Me In versione liquido Quindi Il mio liquido Il Vapers for passion Cata Formato scomposto 20 ml Da portare A 60 Finiti con Glicerina E nicotina Se la volete Se no Basetta a zero Un bignè Con ripieno Di crema al pistacchio Caramello salato E granella Di nocciole Come al solito Ragazzi Come qualsiasi Sistema mesh Iniziamo A mettere Il liquido Poi Lasciamo Che Proprio Lo assorba E dopo un po' Andiamo a rabboccare Per far si Che man mano Che si assorba Sia completamente Satura Anche tutta La parte Interna Del cotone Adesso Che lo abbiamo liquidato Mentre si assorbe Come vi ho detto Precedentemente Andiamo un po' A rimuovere Quelle eccedenze Nella parte Sottostante Perché veramente Non servono Dopodiché Andiamo ad inserire Il nostro Riduttore Vedete Come è fatto È incastrato Perfettamente Ragazzi Chiaramente Per dovrei far tenuta Quindi Proprio Mi raccomando Attenti Che se avete Cotonato Così bene Che avete messo Esattamente Vedete Il cotone Anche i lati In questo modo Ora capirete Perché Vi ho detto Di essere così Precisi Vedete Perché Quando facevo Le prove All'inizio Che non mettevo Più bombato Mi si incastrava Il cotone Si sminchiava tutto Santi che venivano giù Potete immaginare Quindi Esattamente Centrati E poi andate giù Pari È giusto Che sia così Ragazzi Perché Per avere La tenuta Che deve avere Bisogna Che queste Toleranze Fossero così Precise Vedete Questo È il nostro Risultato finale Adesso Lo andiamo A montare Sulla nostra Edron Un'altra micro Boccatina Di liquido Perché Come vedete Già solo Nel frattempo Che facciamo Quest'operazione Il cotone È già schiarito Perché È stato Già Cicciato Tutto il liquido Vediamo Quest'ultima Raboccata Come ormai Sapete Che piace A me Questi qua Li chiudo così Semplicemente Prendete l'aria Lo mettete In corrispondenza Facendo proprio L'incastro E ve lo tirate Via così Ecco qua Il nostro Bambolotto Come ho detto prima Abbiamo 4 ml e mezzo Di capienza Quindi come se fosse Il tank Vedete Già chiuso Il controllo liquido Lo aprite E anche qui ragazzi Cioè anche il 30 Non abbiamo Non abbiamo Approfondito Ma voi immaginate Usare in squonk Una roba così Oppure usarlo anche Proprio in dripper Che avete proprio Un mini tank Poi ovviamente Il 30 Non avrai 4 ml e mezzo Che ha questo Senza ombra di dubbio Però comunque Sicuramente Rispetto a un comune Dripper Quel suo di praticità In più A mio modesto parere Vedete che ce l'ha A questo punto Tac Apriamo il nostro Controllo del liquido Settiamo la nostra Aria E basta Chiacchiere Ragazzi Veramente Basta chiacchiere Andiamo a svaparci Questo bestione Range consigliato Di utilizzo Tra i 60 E i 80 70 watt 033 finale 4,8 Proviamo a parzializzare L'aria Tenendo solo Tutta Tutto l'airflow Ma solo La parte centrale Non sono più Abituato A tenere Della roba Così in mano C'è tesa Il resto Mi sembra Le piccoline Adesso Bene Andiamo a parlare Di questo Mesh Dual Deck Series Io Allora Intanto Per il Titan Non è stato disponibile A differenza Della Roma Miser 30 Il riduttore Del cammino Ho provato Un'infinità di roba Qua sopra Le prove che ho fatto Sono state Le profile 1.5 Chill Smussate i lati Dopo aver visto i problemi Di simultaneità Nell'accensione Ho lasciato perdere Le mesh del profile 1.5 Ho provato le sue Incantal Adesso ci abbiamo messo Quelle in acciaio Abbiamo provato Delle mesh Della match life Abbiamo fatto Due prove Con le FRF Classiche Quelle lì Le normali Le 015 Classiche Con la trama fitta E due prove Quindi compresa questa Sono otto totali Con il rocchetto Di mesh Vandyvape Per l'ennesima volta Il rocchetto Di mesh Vandyvape Rimane Quello più Aromatico In assoluto Ma che sia Su questo Che sia Su qualsiasi Altro atomizzatore Le abbiamo provate Ovunque Quelle mesh lì Sono Bestiali Anche perché Anche perché Insieme a queste In acciaio Rimangono Le più funzionali Perché Perché comunque Voi essendo Un deck In serie A questi vattaggi Siete voltaggi Veramente elevati Quando andate a usare Quelle Incantal Tutte le altre mesh Insomma Andate a usare Dei voltaggi Veramente elevati Siete 6 volte e mezzo 7 volte E quindi Questo va veramente A risentire Della gestione Batteria Cioè personalmente Senza fare gestioni Avevo riempito 14 ml Della versione short Con le due 18650 Qua dentro Ragazzi Non le ho svappati 14 ml Cioè veramente Vi prende le batterie In una maniera assurda A un voltaggio Così elevato Quindi Sicuramente Quelle Nicrom E queste qua In acciaio Che sono più reattive Infatti adesso Siamo sulla soglia Dei 5 volte Praticamente Per me È il modo più Funzionale Di usare Questo prodotto Rispetto a quelle Incantate Almeno che a voi Non me ne frega niente Anche se vi dura poco Ci piazzate Quello che volete Il discorso Qual è? Intanto Faccio una trasfappata Che Intanto queste qua In acciaio Inverosimilmente Da proprio Cerno Un nemico dell'acciaio Mi sono piaciute Di più Delle loro Incantale Non so se è una coincidenza Ma tutto ciò che ho usato Con la trama A nido d'ape Perché anche quelle Della matchlight Nicrom Erano a nido d'ape Mi è piaciuto Un po' meno Rispetto a delle trame Un po' più fitte Su questi atomizzatori In altri atomizzatori Aveva comunque Il suo perché Qui anche le chill Che sulla Roma Miser 30 In singolo Comunque Apprezzato parecchio Ma non può lasciare Desiderare Il flavor è molto buono È molto molto buono Liquido direi Che lo conosciamo bene In questo settaggio Rispetto ad altri Anche così in dripper Le parti cremose Vengono evidenziate bene Per mio parere Comunque Non siamo a livello Del flavor Della Roma Miser Il 30 Il 30 ragazzi È qualcosa di disumano Il suo perché È un altro Rispetto all'altro Roma Miser È come se fosse Come dire Almeno nella versione 14 14 ml Quella short In quella 28 Non l'ho neanche provato Perché con un cammino Così alto Per me È troppo dispersivo Dal momento Che non abbiamo Una riduzione Sì infatti Quindi Perché è gigante Cioè il cammino lungo Si si disperda troppo Dal momento Che non c'è il riduttore Del cammino stesso Il discorso è che Per esempio Tra le varie prove Ci ho provato Un sacco di liquidi Qua sopra Tra cui lo Charm Vi parlo Principalmente Della prova fatta Con lo Charm Con le mesh OFRF Cotonato Con il suo boffo Di cotone Siamo rimasti Tutti soddisfatti Abbiamo fatto Una serata svapo Con dei amici A casa Per fare appunto Queste prove Per avere sempre Più bocche Che provano Il fatto è stato Che abbiamo messo Lo stesso liquido Con la stessa mesh Anche sull'aroma L'aroma miser 30 L'aroma miser 30 Tende sicuramente A rivedenziare In maniera molto importante Oltre l'intensità Del flevole In generale La parte cremosa Con un ottimo accompagnamento Di tutte le sfaccettature E quant'altro Questo possiamo definirlo Un po' più Bilanciato Ok Quindi meno evidenziata La parte cremosa Ma al tempo stesso Tira fuori Anche abbastanza bene Anche le note più secondarie Infatti personalmente Lo Charm Quarta boccia Che ho aperto Perché proprio Mi fa schifo Capito Quarta bottiglia Capro di Charm Quindi siamo arrivati Dai 180 ai 240 ml Non ho mai sentito Così la parte Delle spezie Di quelli qui Qua tiravano fuori Proprio le spezie A bomba Infatti Tante che alcuni Per via di questa cosa Che erano lì Quella sera Un po' troppo forse Poi fa molti gusti Hai capito Infatti a me Personalmente Perché mi piacciono le spezie Lo preferivo altrove Poi comunque Come intensità Non c'è proprio Non c'è Non c'è proprio paragone Anche per quello Che è il discorso Dell'intensità Il discorso Qual è? Intanto Anche se sembra poca Avete presente Le due regolazioni Quelle più piccole Le due più piccole Delle quattro disponibili La più grande Delle due Comunque Offre un tiro Che credo Non fosse fattibile E invece Ma infatti Mi avete fatto provare Poi comunque Con tutte le opzioni Che avete Quando sono prodotti Ragazzi Così versatili Che ci potete fare Così tante cose Noi vi diamo Due linee guida Sulle prove fatte Ma questo qua È il classico prodotto Che avrete già capito Da voi Che è da smanettare Il discorso Qual è? Molte discorso Resa aromatica Pareri personale Il riguardo Il discorso Qual è? Andiamo a parlare Per quello che riguarda La praticità Di rigenerazione La praticità Di utilizzo E la durata Compronta Un sistema normale Chiaramente Per una questione Di spazi Si è dovuto Optare Per le due mesh Con lo stesso buffo Piuttosto che Due mesh Nessano dopo l'altro Con ognuna Il proprio buffo Anche perché Con quello che è La quantità di cotone C'è un deck così Un pentolino Per usare Un pentolino Nella cucina In Inox E fai Il deck Dovete prenderci la mano Dovete prenderci la mano Perché come vedete Nonostante Il tool è quello Le mesh sono identiche Dovete essere Veramente precisi Per far sì Che funzioni bene Ok Quindi Proprio Curvate nello stesso modo Precise Bene La consistenza del cotone È molto importante Oltre che lo è sempre Ok In questo caso Ancora di più Per la famosa parte centrale Come dicevo prima Quella parte centrale Condivisa dalle due mesh Veramente corta Ok Quindi comunque Se fate qualche puff Di seguito Comunque Fa fatica Ad arrivare a essere Properly Sì Dovete trovare un modo Per farlo arrivare Anche da sotto in mezzo Sì Bravissimo Facevano così Non c'era un minimo problema Esattamente Esattamente Miles è già arrivato al punto Dovete trovare un modo Per far arrivare più liquido Alla parte centrale Quello sicuramente Il fatto è che Comunque Nelle mie prove Magari con il muci Posso avere sbagliato io Con i baffi loro Però no Non sono riuscito Neanche lontanamente A fare la stessa quantità Di ml Che si fa con la Ramamizer Prima di recensirlo Per tutte le prove fatte Su la Ramamizer Non ho mai utilizzato La stessa rigenerazione Per una quantità di ml Assurda Il mio amico Sì però L'abbiamo rigenerato Quella famosa sera Anche il suo Ramamizer Con la Mesho FRF Con il suo baffo di cotone Pretagliato È venuto a far Un rigenerare Dopo quasi due settimane Calo di flavor Sì Ma ragazzi Con un cioccolatoso Cioè un liquido Ragazzi Che era praticamente Nero Ok Catrame Andava ancora E il cotone Non era neanche messo male Ma c'era comunque Un palese Calo aromatico Ma lui Ce l'aveva fatto Praticamente un centinaio Di ml Da sopra Un centinaio scarso Avevamo fatto un conto Tipo 70-80 Però per quelli Sono quei classici liquidi Che se lo fate a coil Bacciatevi i gomiti Se è arrivato a 10 ml Sì Sì Già 8 Per come svappo io Già 8 Già mi dà fastidio Devo cambiare Il fatto è che Proprio guardavo da sopra Specialmente in modalità dripper Quando ho cominciato A avere problemi di hotspot Dove li facevano Tutti In mezzo Riga Cioè l'hotspot Se lo fa Lo fa in mezzo Per questa questione qua Quindi Non è semplice Intuitivo E a livello Basic A livello ignoranza Proprio come La Roma Mizer 30 È una roba Più per chi ha voglia Di smanettare Ma parliamoci chiaro Proprio in generale Questo genere di prodotti È per gente Che ha voglia di smanettare Non è che l'utente Medio Si prende un 41 Per girare Ecco quindi Siamo comunque in linea Sul tipo Di prodotto Che è Sia chiaro Che però Ripeto Non aspettatevi La stessa immediatezza Anche perché Essendoci appunto Due meshes Sono tutti i vari fattori L'accensione simultanea La precisione Eccetera È specialmente La stessa durata Dell'alimentazione Per quanto Comunque il sistema Funzioni veramente Veramente bene Nel mio modo Di interpretare Il prodotto È stato Che questo Posso sicuramente Definirlo Il prodotto Da cloud Più aromatico Che abbia mai provato Questo secondo me Almeno in queste impostazioni Si discosta un po' di più Dal concetto proprio di Flavor Perché comunque 80 watt ragazzi Si fa un bel cuore Della madonna Si Che cos'è L'altro è Denso Cioè densissimo Questo Quelle meshe Inicrome Che vi ho fatto vedere Sono arrivato a spingere Anche a 140 A 145 watt Ragazzi C'è proprio nebbia In Valpadana Bello succoso Aromatico Quindi Per i miei gusti Più aromatico Il 30 Ma come prodotto Da cloud È una roba così Aromatica Da cloud Ragazzi Non l'ho mai provato Chiaramente Quindi questo per me È il perché Di questo deck Ci può stare Sicuramente sì Come tanti prodotti Non è che per via Del fatto Che dovete Aspettare un attimo A volte che alimenti Bene fino al centro Per avere meglio Il flavor Che è lo casso Perché comunque Anche di svapata compulsiva Comunque non arrivate a steccare Ecco Non avete il massimo Del flavor Ma non avete mai Quella poca quantità Di liquido Che poi vi porta Ad avere dei dry heat Quindi Questo conferma La buona mentalità Ingegneristica Di Steam Crave Di quando studiano i prodotti Cioè si vede Che c'è dietro Del lavoro Mirato Pensato E studiato Bene Poi comunque E' una prova E' il primo Pensato come primo E' anche beneficio Del dubbio Che comunque E per essere il primo Fatto così Non è che abbiano Fatto delle grandi cappelle Anzi Un cazzo Anzi Anzi Quindi Ricapitolando Consiglio Di pad Di pad Che vi abbiamo Fatto vedere E veramente Avete la stessa Identica Consistenza Del buffo Prefatto Soffate bene ai lati E comunque ad andare Va Vediamoci chiaro Anche qui comunque La tenuta Per essere un 41 Ha un'ottima tenuta Anche questo Portamelo in giro Non ha avuto particolari problemi Un po' più rispetto al 30 Chiaramente Ma ci può stare Tranquillamente Il 30 Proprio Tenuta di un atom A coil Praticamente Fatto dovere E quindi Questi sono i nostri Pensieri Su questo deck A mesh Sicuramente È un ottimo Prodotto di per sé Quanto vi viene a costare Questo deck In Italia Orientativamente Tra i 30 E 35 euro Sicuramente Non sono Proprio brustolini Chiaramente Però se contiamo Che il 30 La versione basic Sta più o meno Più o meno Sui 45 Con 15 euro in più Vi danno l'estensione E il deck a mesh Qua per il doppio del prezzo Avete solo il deck a mesh Però c'è lo stesso quantitativo Di materiale Che c'è In due deck Di quell'altro Quindi alla fine Ci può anche stare Sicuramente Sì Sicuramente Non è proprio Economico Rapportato Invece A quello che è La solita Fascia di prezzo Per i prodotti Che offre Sting Crave Ma Metteteci comunque L'innovazione Perché questa Sì è l'innovazione Mettiamoci appunto Come diceva Miles L'elaborazione E quant'altro Se Volete Togliervi Uno sfizio Se già possedete il Titan Vi viene la scimmia Il nostro consiglio Cioè se la vostra domanda è Voi al posto mio Dopo averlo preso Lo prendereste Se vi piace ogni tanto Farvi la smanettata Farvi la cosa un po' particolare E siete infossati Su questa categoria Di prodotti È una cosa da avere sicuramente Perché Non esiste una cosa così Quindi Già per quello Per noi È da avere Per il resto Le informazioni Ve le abbiamo date Il prodotto L'avete visto Traete poi Le vostre conclusioni Esattamente Detto questo Io sono Cata Sono Miles E ci vediamo al prossimo video Di Vapers for Passion Ciao Ciao